la disubbidienza di eva e l'ubbidienza di maria commenti di gesù e di maria santissima al capitolo dell'annunciazione 5 marzo 1944 dice gesù non si legge nella genesi che dio fece l'uomo dominatore su tutto quanto era sulla terra ossia su tutto meno che su dio e sui suoi angelici ministri non si legge che fece la perché fosse compagna all'uomo nella gioia e nella dominazione su tutti i viventi non si legge che di tutto potevano mangiare fuorché dell'albero della scienza del bene del male perché quale sottosenso è nella parola perché domini quale in quello dell'albero della scienza del bene del male ve lo siete mai chiesto voi che vi chiedete tante cose inutili e non sapete chiedere mai alla vostra anima le celesti verità la vostra anima se fosse viva ve le direbbe essa che quando è in grazia è tenuta come un fiore fra le mani dell'angelo vostro essa che quando è in grazia è come un fiore baciato dal sole e irrorato dalla rugiada per lo spirito santo che la scalda e illumina che la irriga e la decora di celesti luci quante verità vi direbbe la vostra anima se sapeste conversare con essa se la amaste come quella che mette in voi la somiglianza con dio che è spirito come spirito è la vostra anima quale grande amica avreste se amaste la vostra anima in luogo di odiarla sino ad ucciderla quale grande sublime amica con la quale parlare di cose di cielo voi che siete così avidi di parlare e vi rovinate l'un l'altro con amicizie che se non sono indegne qualche volta lo sono sono però quasi sempre inutili e vi si mutano in frastuono vano o nocivo di parole e parole tutte di terra non ho io detto chi mi ama osserverà la mia parola e il padre mio l'amerà e verremo presso di lui e faremo in lui dimora l'anima in grazia possiede l'amore e possedendo l'amore possiede dio ossia il padre che la conserva il figlio che la maestra lo spirito che la illumina possiede quindi la conoscenza la scienza la sapienza possiede la luce pensate perciò quali conversazioni sublimi potrebbe intrecciare con voi la vostra anima sono quelle che hanno impito i silenzi delle carceri i silenzi delle celle i silenzi degli eremitaggi i silenzi delle camere degli infermi santi sono quelle che hanno confortato i carcerati in attesa di martirio i claustrati alla ricerca della verità i romiti anelanti alla conoscenza anticipata di dio gli infermi alla sopportazione ma che dico all'amore della loro croce se sapeste interrogare la vostra anima essa vi direbbe che il significato vero esatto vasto quanto il creato di quella parola domini è questo perché l'uomo domini su tutto su tutti i suoi tre strati lo strato inferiore animale lo strato di mezzo morale lo strato superiore spirituale e tutti e tre li volga ad un unico fine possedere dio possederlo meritandolo con questo ferreo dominio che tiene soggette tutte le forze dell'io e le fa ancelle di questo unico scopo meritare di possedere dio vi direbbe che dio aveva proibito la conoscenza del bene del male perché il bene lo aveva elargito alle sue creature gratuitamente e il male non voleva che lo conosceste perché è frutto dolce al palato ma che sceso col suo succo nel sangue ne desta una febbre che uccide e produce arsione per cui più si beve di quel suo succomendace e più se ne ha sete voi obietterete e perché ce l'ha messo e perché perché il male è una forza che è nata da sola come certi mali mostruosi nascono nel corpo più sano lucifero era angelo il più bello degli angeli spirito perfetto inferiore a dio soltanto eppure nel suo essere luminoso nacque un vapore di superbia che esso non disperse ma anzi condensò covandolo e da questa incubazione è nato il male esso era prima che l'uomo fosse dio l'aveva precipitato fuor dal paradiso l'incubatore maledetto del male questo insozzatore del paradiso ma esso è rimasto l'eterno incubatore del male e non potendo più insozzare il paradiso ha insozzato la terra quella metaforica pianta sta a dimostrare queste verità dio aveva detto all'uomo e alla donna conoscete tutte le leggi e di misteri del creato ma non vogliate usurparmi il diritto di essere il creatore dell'uomo a propagare la stirpe umana basterà il mio amore che circolerà in voi e senza libidine di senso ma per solo palpito di carità susciterà i nuovi adami della stirpe tutto vi dono solo mi serbo questo mistero della formazione dell'uomo satana ha voluto levare questa verginità intellettuale all'uomo e con la sua lingua serpentina abblandito e accarezzato membra e occhi di eva suscitandone riflessi e acutezze che prima non avevano perché la malizia non li aveva ancora intossicati essa vide e vedendo volle provare la carne era destata oh se avesse chiamato dio se fosse corsa a dirgli padre io son malata il serpente mi ha accarezzata e il turbamento è in me il padre l'avrebbe purificata e guarita col suo alito che come le aveva infuso la vita poteva infonderle nuovamente innocenza smemorandola del tossico serpentino ed anzi mettendo in lei la ripugnanza per il serpente ma eva non va al padre eva torna dal serpente quella sensazione è dolce per lei vedendo che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi e bello all'occhio e gradevole all'aspetto lo colse e ne mangiò e comprese ormai la malizia era scesa a morderle le viscere vide con occhi nuovi e udì con orecchi nuovi gli usi e le voci dei bruti ossia degli animali e bramò questi usi degli animali con folle bramosia iniziò sola il peccato lo portò a termine col compagno ecco perché sulla donna pesa condanna maggiore è per lei che l'uomo è divenuto ribelle a dio e che ha conosciuto lussuria e morte è per lei che non ha più saputo dominare i suoi tre regni dello spirito perché ha permesso che lo spirito disubbidisse a dio del morale perché ha permesso che le passioni lo signoreggiassero della carne perché l'avvilì alle leggi istintive dei bruti il serpente mi ha sedotta diceva la donna mi ha offerto il frutto ed io ne ho mangiato dice Adamo e la cupidigia triplice abbranca da allora i tre regni dell'uomo non c'è che la grazia che riesca ad allentare la stretta di questo mostro spietato e se è viva, vivissima, mantenuta sempre più viva dalla volontà del figlio fedele giunge a strozzare il mostro e a non aver più a temere di nulla non dei tiranni interni ossia della carne e delle passioni non dei tiranni esterni ossia del mondo e dei potenti del mondo non delle persecuzioni, non della morte e come dice l'apostolo Paolo nessuna di queste cose io temo né tengo alla mia vita più di me purché io compia la mia missione e il ministero ricevuto dal Signore Gesù per rendere testimonianza al Vangelo della grazia di Dio 8 marzo 1944 dice Maria Nella gioia, poiché quando ho compreso la missione a cui Dio mi chiamava fui ripiena di gioia il mio cuore si aprì come un giglio serrato e se ne effuse quel sangue che fu zolla al germe del Signore gioia di essere madre m'ero consacrata a Dio dalla prima età perché la luce dell'Altissimo m'aveva illuminato la causa del male del mondo e avevo voluto, per quanto era in mio potere, cancellare da me la traccia di Satana io non sapevo di essere senza macchia non potevo pensare d'esserlo il solo pensarlo sarebbe stata presunzione superbia perché, nata da umani genitori non m'era lecito pensare che proprio io ero l'eletta ad esserla senza macchia lo Spirito di Dio mi aveva istruita sul dolore del Padre davanti alla corruzione di Eva che aveva voluto avvilire sé, creatura di grazia ad un livello di creatura inferiore era in me l'intenzione di addolcire quel dolore riportando la mia carne alla purezza angelica col serbarmi inviolata da pensieri desideri e contatti umani solo per Lui il mio palpito d'amore solo a Lui il mio essere ma, se non era in me arsione di carne era però ancora il sacrificio di non essere madre la maternità, priva di quanto ora la avvilisce era stata concessa dal Padre creatore anche ad Eva dolce e pura maternità senza pesantezza di senso io l'ho provata di quanto si è spogliata Eva rinunciando a questa ricchezza più che dell'immortalità e non vi paia esagerazione il mio Gesù e con Lui io, sua madre abbiamo conosciuto il languore della morte io il dolce languore di chi stanco si addormenta egli l'atroce languore di chi muore per la sua condanna dunque anche a noi è venuta la morte ma la maternità senza violazione di sorta è venuta a me sola, Eva Nuova perché io potessi dire al mondo di quale dolcezza fosse la sorte della donna chiamata ad essere madre senza dolore di carne e il desiderio di questa pura maternità poteva essere ed era anche nella Vergine tutta di Dio poiché la maternità è la gloria della donna se voi pensate poi in quale onore era tenuta la donna madre presso gli israeliti ancor più potete pensare quale sacrificio avevo compiuto consacrandomi a questa privazione ora alla sua serva l'eterno buono dava questo dono senza levarmi il candore di cui m'ero vestita per esser fiore sul suo trono ed io ne giubilavo con la duplice gioia ad esser madre di un uomo ed esser madre di Dio gioia ad esser quella per cui la pace si rinsaldava fra cielo e terra oh aver desiderato questa pace per amore di Dio e di prossimo e sapere che per mezzo di me povera ancella del potente essa veniva al mondo dire oh uomini non piangete più io porto in me il segreto che vi farà felici non ve lo posso dire perché è sigillato in me nel mio cuore come è chiuso il figlio nel seno inviolato ma già ve lo porto fra voi ma ogni ora che passa è più prossimo il momento in cui lo vedrete e ne conoscerete il nome santo gioia ad aver fatto felice il Dio gioia di credente per il suo Dio fatto felice oh l'aver levato dal cuore di Dio l'amarezza della disubbidienza di Eva della superbia di Eva della sua incredulità il mio Gesù ha spiegato di qual colpa si macchiò la coppia prima io ho annullato quella colpa rifacendo a ritroso per ascendere le tappe della sua discesa il principio della colpa fu nella disubbidienza non mangiate e non toccate di quell'albero aveva detto il Dio e l'uomo e la donna i re del creato che potevano di tutto toccare e mangiare fuorché di quello perché Dio voleva non renderli che è inferiore agli angeli non tennero conto di quel divieto la pianta il mezzo per provare l'ubbidienza dei figli che è l'ubbidienza al comando di Dio? è bene perché Dio non comanda che il bene che è la disubbidienza? è male perché mette l'animo nelle disposizioni di ribellione su cui Satana può operare Eva va la pianta da cui sarebbe venuto il suo bene con lo sfuggirla o il suo male con l'avvicinarla vi va trascinata dalla curiosità bambina di vedere che avesse in sé di speciale dall'imprudenza che le fa parere inutile il comando di Dio dato che lei è forte e pura regina dell'Eden in cui tutto le obbidisce e in cui nulla potrà farle del male la sua presunzione la rovina la presunzione è già lievito di superbia alla pianta trova il seduttore il quale alla sua inesperienza alla sua vergine tanto bella in esperienza alla sua mal tutelata da lei in esperienza canta la canzone della menzogna tu credi che qui sia del male? no Dio te l'ha detto perché vi vuol tenere schiavi del suo potere credete d'essere re? non siete neppur liberi come lo è la fiera l'animale ad essa è concesso di amarsi di amore vero non a voi ad essa fiera è concesso di essere creatrice come Dio essa genererà figli e vedrà crescere a suo piacere la famiglia non voi a voi è negata questa gioia a che pro dunque farvi uomo e donna se dovete vivere in tale maniera siate dei non sapete quale gioia è l'essere due in una carne sola che ne crea una terza e molte più terze? non credete alle promesse di Dio di avere gioia di posterità vedendo i figli crearsi nuove famiglie lasciando per esse padre e madre vi ha dato una larva di vita la vita vera è di conoscere le leggi della vita allora sarete simili a dei e potrete dire a Dio siamo tuoi uguali e la seduzione è continuata perché non vi fu volontà di spezzarla ma anzi volontà di continuarla e di conoscere ciò che non era dell'uomo ecco che l'albero proibito diviene alla razza realmente mortale perché dalle sue rame pende il frutto dell'amaro sapere che viene da Satana e la donna diviene femmina e col suo lievito della conoscenza satanica in cuore va a corrompere Adamo avvilita così la carne corrotto il morale degradato lo spirito conobbero il dolore e la morte dello spirito privato della grazia e della carne privata dell'immortalità e la ferita di Eva generò la sofferenza che non si placherà finché non sarà estinta l'ultima coppia sulla terra io ho percorso a ritroso la via dei due peccatori ho ubbidito in tutti i modi ho ubbidito Dio mi aveva chiesto d'essere vergine ho ubbidito amata la verginità che mi faceva pura come la prima delle donne prima di conoscere Satana Dio mi chiese d'essere sposa ho ubbidito riportando il matrimonio a quel grado di purezza che era nel pensiero di Dio quando aveva creato i due primi convinta ad essere destinata alla solitudine nel matrimonio e allo sprezzo del prossimo per la mia sterilità santa ora Dio mi chiedeva d'essere madre ho ubbidito ho creduto che ciò fosse possibile e che quella parola venisse da Dio perché la pace si diffondeva in me nell'udirla non ho pensato me lo sono meritato non mi son detta ora il mondo mi ammirerà perché sono simile a Dio creando la carne di Dio no mi sono annichilita nella umiltà la gioia mi è sgorgata dal cuore come uno stelo di rosa fiorita ma si ornò subito di acute spine e fu stretta nel viluppo del dolore come quei rami che sono avvolti dai vilucchi dei convolvoli il dolore del dolore dello sposo ecco la strettoia nel mio gioire il dolore del dolore del mio figlio ecco le spine del mio gioire Eva volle il godimento il trionfo la libertà io accettai il dolore l'annichilimento la schiavitù rinunciai alla mia vita tranquilla alla stima dello sposo alla libertà mia propria non mi serbai nulla divenni l'ancella di Dio nella carne nel morale nello spirito affidandomi a Lui non solo per il virginale concepimento ma per la difesa del mio onore per la consolazione dello sposo per il mezzo con cui portare egli pure alla sublimazione del coniugio di modo da fare di noi coloro che rendono all'uomo e alla donna la dignità perduta abbracciai la volontà del signore per me per lo sposo per la mia creatura dissi sì per tutti e tre certa che Dio non avrebbe mentito alla sua promessa di soccorrermi nel mio dolore di sposa che si vede giudicata colpevole di madre che si vede generare per dare il figlio al dolore sì ho detto sì e basta quel sì ha annullato il no di Eva al comando di Dio sì signore come tu vuoi conoscerò quel che tu vuoi vivrò come tu vuoi gioirò se tu vuoi soffrirò per quel che tu vuoi sì sempre sì mio signore dal momento in cui il tuo raggio mi fece madre al momento in cui mi chiamasti a te sì sempre sì tutte le voci della carne tutte le passioni del morale sotto il peso di questo mio perpetuo sì e sopra come su un piedistallo di diamante il mio spirito a cui mancan le ali per volare a te ma che è signore su tutto l'io domato e servo tuo servo servo nella gioia servo nel dolore ma sorridi o Dio e sii felice la colpa è vinta è levata è distrutta essa giace sotto al mio tallone essa è lavata nel mio pianto distrutta dalla mia ubbidienza dal mio seno nascerà l'albero nuovo che porterà il frutto che conoscerà tutto il male per averlo patito in sé e darà tutto il bene a questo potranno venire gli uomini ed io sarò felice se ne coglieranno anche senza pensare che esso nasce da me purché l'uomo si salvi e Dio sia amato si faccia della sua ancella quel che si fa della zolla su cui un albero sorge gradino per salire Maria dice la Madonna rivolgendosi a Maria Valtorta bisogna sempre saper essere gradino perché gli altri salgano a Dio se ci calpestano non fa niente purché riescano ad andare alla croce è il nuovo albero che ha il frutto della conoscenza del bene e del male perché dice all'uomo ciò che è male e ciò che è bene affinché sappia scegliere e vivere e sa nel contempo fare di sé liquore per guarire gli intossicati dal male voluto gustare il nostro cuore sotto ai piedi degli uomini purché il numero dei redenti cresca e il sangue del mio Gesù non sia effuso senza frutto ecco la sorte delle ancelle di Dio ma poi meritiamo di ricevere nel grembo l'ostia santa e ai piedi della croce intrisa del suo sangue del nostro pianto dire ecco o padre l'ostia immacolata che ti offriamo per la salute del mondo guardaci o padre fuse con essa e per i suoi meriti infiniti dacci la tua benedizione ed io ti do la mia carezza riposa figlia il Signore è con te dice Gesù la parola della madre mia dovrebbe disperdere ogni titubanza di pensiero anche nei più inceppati nelle formule ho detto metaforica pianta dirò ora simbolica pianta forse capirete meglio il suo simbolo è chiaro dal come i due figli di Dio avrebbero agito rispetto ad essa si sarebbe compreso com'era in loro tendenza al bene o al male come acqua reggia che prova l'oro e bilancia d'orafo che ne pesa i carati quella pianta divenuta una missione per il comando di Dio rispetto ad essa ha dato la misura della purezza del metallo di Adamo e di Eva sento già la vostra obiezione non è stata soverchia la condanna e puerile il mezzo usato per giungere a condannarli no non è stato una disubbidienza attualmente in voi che siete gli eredi loro è meno grave che non fosse in essi voi siete redenti da me ma il veleno di Satana rimane sempre pronto a risorgere come certi morbi che non si annullano mai totalmente nel sangue essi i due progenitori erano possessori della grazia senza aver mai avuto sfioramento con la disgrazia perciò più forti più sorretti dalla grazia che generava innocenza e amore infinito era il dono che Dio aveva loro dato ben più grave perciò la loro caduta nonostante quel dono simbolico anche il frutto offerto e mangiato era il frutto di una esperienza voluta compiere per istigazione satanica contro il comando di Dio io non avevo interdetto agli uomini l'amore volevo unicamente che si amassero senza malizia come io li amavo con la mia santità essi dovevano amarsi in santità di affetti che nessuna libidine insozza non si deve dimenticare che la grazia è lume e chi la possiede conosce ciò che è utile e buono conoscere la piena di grazia conobbe tutto perché la sapienza la istruiva la sapienza che è grazia e si seppe guidare santamente eva conosceva perciò ciò che le era buono conoscere non oltre perché è inutile conoscere ciò che non è buono non ebbe fede nelle parole di Dio e non fu fedele nella sua promessa di ubbidienza credette a Satana infranse la promessa volle sapere il non buono e lo amò senza rimorso rese l'amore che io avevo dato così santo una corrotta cosa una avvilita cosa angelo decaduto si rotolò nel fango e sullo strame mentre poteva correre felice fra i fiori del paradiso terrestre e vedersi fiorire intorno la prole così come una pianta si copre di fiori senza curvare la chioma nel pantano non siate come i fanciulli stolti che io indico nel vangelo i quali hanno udito cantare e si sono turati gli orecchi hanno udito suonare e non hanno ballato hanno udito piangere e hanno voluto ridere non siate gretti e non siate negatori accettate accettate senza malizia e cocciutaggine senza ironia e incredulità la luce e basta su ciò per farvi capire di quanto dovete essere grati a colui che è morto per rialzarvi al cielo e per vincere la concupiscenza di satana ho voluto parlarvi di questo che è stato il primo anello della catena con cui il verbo del padre fu tratto alla morte l'agnello divino al macello ve ne ho voluto parlare perché ora il 90% fra voi è simile ad eva intossicata dal fiato e dalla parola di lucifero e non vivete per amarvi ma per saziarvi di senso non vivete per il cielo ma per il fango non siete più creature dotate d'anima e ragione ma cani senza anima e senza ragione l'anima l'avete uccisa e la ragione depravata in verità vi dico che i bruti gli animali vi superano nella onestà dei loro amori grazie grazie Grazie.